Siamo qui oggi per inaugurare il Bosco Urbano di Parma Mia. Questa è un'iniziativa del Consorzo Chilometro Verde Parma, che ha come missione quella di piantare alberi e piante in tutta la provincia di Parma. Fino ad oggi siamo riusciti a piantare 40.000 piante e andare alla fine di marzo arriveranno a 55.000. I boschi urbani e perurbani sono molto importanti per i servizi ecosistemici che offrono alla popolazione, non solo per gli spazi verdi e quindi la nuova socialità, ma anche per la tutela dalle ondate di calore, per esempio la regimazione delle acque, favorire la biodiversità e soprattutto migliorare la qualità dell'aria, che nel nostro territorio non è sempre delle migliori. Questo bosco è stato realizzato grazie alla collaborazione di tutti, dalla pubblica amministrazione ai cittadini alle imprese. Abbiamo realizzato una raccolta fondi che ci ha permesso di mettere a dimora 1030 piante, proprio col contributo di tutti. Questo è il significato del Consorzio, prendersi cura del territorio e prendersi cura l'uno dell'altro. Grazie. Grazie. Grazie.